E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscreti che seguiamo la serie A sia dell'Udinese che della Lazio del buon Maurizio Sarri guardatevi tutti i video fatti in precedenza, commenti alle parte, calciomercatismi, sfoghi, recuperate tutto domani sera ore 21, processo al campionato live in cui torniamo su queste due squadre anche assieme al buon Luca di 4-2 Fantasia che domani avremo ospite sul canale, noto tifoso laziale, vi lascio in descrizione il link di fan rating per andare a dare i voti ai giocatori di questa parte allora chiudiamo la giornata calcistica della domenica con questo Udinese-Lazio un po' uno partitaccia non tanto, un lieve uno partitaccia, non è stato proprio inguardabile, non è stato uno spettacolo osceno però a tratti è stata un po' uno partitaccia, mettiamola così una partita in cui ho visto una buona Udinese nella prima mezz'ora e nel quarto finale di partita in mezzo ho preferito la Lazio che pur era senza tanti giocatori perché mancava Cerbi, mancava Lazzari mancava Lucas Leiva, Luis Alberto, Immobile, Pedro è uscito insomma una Lazio in emergenza devastante che ha fatto una discreta gara contro l'Udinese ho visto delle buone trame di gioco specialmente nella fase centrale del campo delle belle azioni, è mancata della precisione per me sull'andare a concludere l'azione sono mancati i rifinimenti magari classici che ti davano i giocatori titolari l'Udinese l'ho vista bene per la prima mezz'ora, nel senso che vedo la formazione scesa in campo e anche a livello di scelte, a differenza di quello che ho visto contro il Verona posso rimproverare poco perché stante l'indisponibilità di Nuitink e di Strieger Larsen comunque la difesa hai scelto degli uomini razionali perché Pablo Marie ha fatto un'altra buona partita ritorna alle buone impressioni viste contro il Toro ha fatto un'ottima partita a tratti ho visto benissimo anche Neuwen Perez che ha fatto pure l'assist il solito imperiale back out quindi ottima la difesa devo dire la verità non credo avrei giocato con Sopi titolare vedo che Ciofi lo fa giocare spesso ma se è possibile io farei giocare le fasce con Molina e Udo G che secondo me è un giocatore più in crescita non mi è piaciuto il centrocampo fino a quando non è entrato Pereira perché è entrato Pereira e si è visto veramente che l'everage del centrocampo la pericolosità, la spinta, la classe si è alzata molto con il Tuku Pereira però quelli che ci sono stati prima e quelli che gli sono stati a fianco poi quando lui è entrato non mi sono piaciuti non mi è piaciuto Mackengo che si è mangiato un gol veramente atroce Wallace abbastanza impalpabile lo stesso Arslan non mi è piaciuto molto il centrocampo De Lofeu ha fatto anche lui un ottimo inizio forse il miglior giocatore della mezz'ora udinese inizio partita poi è abbastanza sceso però ho visto quantomeno un approccio migliore ho visto un De Lofeu aiutare un po' più la squadra dialogare un po' più con i compagni essere un po' più attento Beto è un po' fuori fase nel senso che per carità c'è l'impegno c'è tutto però a volte sembra un po' far fatica a giocare con una squadra che paradossalmente a volte cerca di più la fase di possesso nel senso vedi che quando l'udinese sta cercando di orchestrare un'azione corale lui fa un po' fatica lui deve essere un po' un protagonista lui va bene per me ancora poi può crescere ovviamente ma ad oggi vedo un giocatore che va bene quando l'udinese è bassa sta difendendo in qualche modo lui gli arriva la palla per un rimpallo sporco gliela passa un compagno e può puntare la porta avversaria correndo un po' come alla lukaku per adesso sto vedendo un giocatore principalmente così bene anche success quando è entrato che è comunque un giocatore che porta devastanza un po' diciamo che che sì tamese e success sono tre giocatori che si assomigliano non solo non solo fisicamente alla fine è un punto che non è che svolti tanto il campionato ad entrambe non fa schifo a nessuna delle due forse serviva la vittoria un po' più all'udinese contando la classifica però tutto sommato alla fine è un pari che voglio dire non lascia nessuno entusiasta ma per quella che è la situazione e di classifica dell'udinese e di emergenzialità di indisponibili per quel che riguarda la Lazio tutto sommato penso che ci possa anche stare è un risultato che non apre e non chiude e non chiude niente nella Lazio ho visto benissimo Milinkovic Savic bene Zaccagni anche se un pelino in più in fase di conclusione poteva fare per il resto ho visto un Isai che non mi è piaciuto molto un Felipe Anderson un po' a fasi un Cabral che qualche buona potenzialità secondo me ce l'ha cioè può fargli bene lavorare comunque con questo allenatore e soprattutto fare la spola tra riuscire a guadagnare esperienza nella Serie A e metterci un po' di qualità che gli possono dare le giocate della Lazio ma c'è qualche margine interessante anche in questo giocatore qua diciamo che la Lazio è abbastanza ingiudicabile oggi perché voglio dire anche a livello di gioco a livello di futuribilità cioè mancava veramente molta gente per farsi un'idea concreta con gente su quelli che possono essere i passi in avanti certo comunque vedo delle belle azioni vedo dei buoni livelli di gioco vedo comunque quando la palla arriva agli elementi più qualitativi della Rosa legacy Milinkovic Savic, legacy Zaccagni, legacy Felipe Anderson quando la palla anche stasera arrivava a questi comunque vedevi un sostrato vedevi delle buone potenzialità vedi una Lazio un po' più identitaria l'Udinese per me ha fatto molto bene vi ripeto la prima mezz'ora poi non so perché forse per stanchezza, timore così è calata molto forse perché è una squadra che ha ancora un po' il braccino e ha recuperato con l'ingresso di Pereira questo per dire cosa? che se tu dovesse vedere in campionato speriamo di no contro la Fiorentina ma nelle gare che verranno mi immagino un Udinese con la mentalità anche per esempio la prima mezz'ora hai visto un Udinese che ha avuto la voglia di attaccare, di aggredire stava anche molto alta come aveva fatto a Verona con la differenza che oggi l'ha fatto a parte con una squadra che aveva numerosi assenze vabbè ma l'hai fatto anche con una formazione molto migliore molto più razionale parlo sia di difesa che di centrocampo soprattutto quindi io mi immagino la mentalità, l'impostazione che hai visto nella prima mezz'ora con scelte di formazione buone come quelle viste ad inizio partita con in più un Pereira diciamo che qualche chance anzi molte chance per salvarti ma anche qualche chance per farlo con una relativa tranquillità voglio dire dovresti anche avercele dovresti no? bene iscrivetevi, ripeto, condividete andate su FanRating a dare i voti vi do i miei della Sreglio a tutte e due le squadre allora Silvestri voto 6 6 comunque ha fatto una partita buona 6 Rodrigo Becao 6 e mezzo Pablo Mari lo dico? Migasa mi ricorda sapete chi? Alessio Stigliano Pablo Mari è l'Alessio Stigliano del fare difesa udinese gli do un bel dal 6 al 7 Neuem Perez anche lui dal 6 al 7 Sopì dal 5 al 6 Arslan può fare molto meglio dal 5 al 6 Wall 6- Mac and Go 5 e mezzo Molina ha colpito la traversa lì quasi a fine partita vero ma secondo me se segnava andavano a rivedere il fallo su Zaccagni e annullavano il gol perché quello su Zaccagni alla fine della partita detto questo ha fatto il ritratto dell'Udinese Molina guardate è il perfetto ritratto dell'Udinese ottimo inizio che ha fatto anche lui quel cross che poi arriva a Perez che glielo dà è stato lui ottimo inizio fase centrale un po' sofferta rispuntato fuori nel finale a me Molina piace moltissimo quindi gli do un 6 per non saperle leggere un po' come a tutta l'Udinese Beto voto dal 5 al 6 anche se comunque a Beto va detto che non gli sono arrivati neanche tanti palloni però dai diamo dal 5 al 6 come pungolo a migliorare a fare meglio dal 5 al 6 con outlook positivo e gasazione De Lofeu voto dai 6 e mezzo di incoraggiamento spesso siamo cattivi con lui giustamente perché deve un attimo rassettarsi però oggi dai diamo un 6 e mezzo di bontà Zegelar non è entrato male 6 più success idem con patate 6 più per Eira idem con patate ancora di più 6 più andiamo alla Lazio allora Stracoscia voto 6 dai 6 perché comunque dà più sicurezza di Reina Marusic non mi è piaciuto molto gli diamo 6 meno Luis Felipe ma tutta la difesa sul gol abbastanza immobile Luis Felipe dal 5 al 6 Patrici dal 5 al 6 Isai 5 e mezzo Milenkovi Savic 6 e mezzo Cataldi 6 più Basic 6 Pedro 6 fin tanto che è rimasto in campo Felipe Anderson 6 più perché a parte il gol secondo me può fare molto di più Zaccagni 6 e mezzo Giovanni Cabral 6 più Andre Anderson 6 voto agli allenatori un 6 a testa ditemi cosa ne pensate un caro saluto a domani ore 21 processo al campionato live a domani ore 21 Grazie a tutti.